Sarcoma dei tessuti molli, angiosarcoma, i 5 sintomi per riconoscerlo L'angiosarcoma è un tipo raro e aggressivo di tumore maligno che origina dalle cellule endoteliali dei vasi sanguigni o linfatici. La sua natura invasiva e la tendenza a metastatizzare rapidamente lo rendono una patologia particolarmente pericolosa, con una prognosi spesso in fausta. Cos'è l'angiosarcoma? L'angiosarcoma rappresenta meno del 1% di tutti i sarcomi dei tessuti molli. Si manifesta principalmente negli adulti, con una leggera predilezione per gli uomini rispetto alle donne. Questo tumore può colpire qualsiasi parte del corpo, ma è più comune nel cuoio capelluto e nel viso, seguiti da fegato, mammella e tessuti molli profondi. Cause dell'angiosarcoma Le cause esatte dell'angiosarcoma non sono completamente comprese, ma diversi fattori di rischio sono stati identificati. Esposizione a radiazioni I pazienti che hanno ricevuto radioterapia per altre neoplasie hanno un rischio aumentato di sviluppare angiosarcoma nei tessuti irradiati. Esposizione a sostanze chimiche Sostanze come il cloruro di vinile e l'arsenico sono stati associati a un aumento del rischio di angiosarcoma, specialmente nel fegato. Linfedema cronico Una condizione caratterizzata da un eccesso di fluido linfatico nei tessuti, spesso dovuta alla rimozione o danneggiamento dei linfonodi, può predisporre allo sviluppo dell'angiosarcoma. Sindrome di Stuart Treves Questo raro tipo di angiosarcoma si sviluppa in pazienti con l'infedema cronico, solitamente a seguito di un trattamento chirurgico per il cancro al seno. Predisposizione genetica Anche se meno comune, alcune sindrome genetiche possono aumentare il rischio di sviluppare angiosarcoma. Sintomi dell'angiosarcoma I sintomi dell'angiosarcoma possono variare a seconda della localizzazione del tumore. Tuttavia, ci sono alcuni sintomi comuni che possono indicare la presenza di questa neoplasia. Lesioni cutanee Lesioni o noduli sulla pelle che possono essere di colore rosso violaceo e che tendono a crescere rapidamente. Dolore Dolore nella zona colpita, che può essere costante o peggiorare nel tempo. Gonfiore Gonfiore localizzato, soprattutto se il tumore è vicino alla superficie del corpo. Ulcere Ulcere o piaghe che non guariscono, spesso associate a lesioni cutanee. Sintomi sistemici In caso di metastasi, possono manifestarsi sintomi sistemici come perdita di peso, febbre e stanchezza. Cure per l'angiosarcoma Il trattamento dell'angiosarcoma dipende dalla localizzazione, dalla dimensione del tumore e dallo stadio della malattia al momento della diagnosi. Le opzioni terapeutiche includono Chirurgia La rimozione chirurgica del tumore è spesso il primo approccio terapeutico. L'obiettivo è asportare il tumore con margini di sicurezza per ridurre il rischio di recidiva. Radioterapia Spesso utilizzata in combinazione con la chirurgia, la radioterapia può aiutare a distruggere le cellule tumorali residue e ridurre la probabilità di recidiva. Chemioterapia Utilizzata principalmente per i tumori avanzati o metastatici, la chemioterapia può aiutare a controllare la crescita del tumore e alleviare i sintomi. Terapie mirate Nuovi farmaci mirati che agiscono su specifici percorsi molecolari coinvolti nella crescita del tumore stanno mostrando promesse nei trattamenti dell'angiosarcoma. Immunoterapia Alcuni studi stanno esplorando l'uso dell'immunoterapia per stimolare il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. L'angiosarcoma è una malattia complessa e impegnativa da trattare. La diagnosi precoce e un approccio terapeutico multidisciplinare sono essenziali per migliorare la prognosi. La ricerca continua è fondamentale per sviluppare nuove terapie e migliorare i risultati per i pazienti affetti da questa rara forma di cancro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie Grazie Grazie